Quante volte vi siete svegliati alla stessa ora e avete pensato che dietro questo semplice fatto potesse celarsi un significato profondo per la vostra salute? Oggi esploreremo un mistero intrigante. Il significato di svegliarsi sempre alla stessa ora non è una casualità come si pensa in genere, piuttosto ha un significato ben preciso che scopriremo insieme. Benvenuti su Ricarica Mentale, nel nostro affascinante viaggio attraverso il mondo del sonno e della medicina cinese. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per altri contenuti incredibili. La medicina cinese, ricca di saggezza millenaria, ci offre prospettive uniche su questo fenomeno. Svegliarsi sempre alla stessa ora vuol dire che il corpo richiede qualcosa. Ma di cosa si tratta nello specifico? Pare sia dovuto ad un blocco di energia su una parte del corpo ben precisa. La medicina cinese considera i disturbi del sonno come un riflesso diretto della perdita di equilibrio dello yin e yang, strettamente legata al funzionamento dell'orologio biologico interno del nostro corpo. Secondo questa prospettiva millenaria, il flusso energetico chiamato qi è essenziale per il benessere e qualsiasi interruzione, anche minima, può influire sul sonno. Ogni organo del corpo è associato a un determinato periodo di tempo nell'orologio biologico cinese e si crede che ciascun organo richieda due ore per rigenerare completamente l'energia. Se questa rigenerazione viene ostacolata da impedimenti di salute, il sonno subisce le conseguenze, manifestandosi in disturbi del sonno e risvegli ricorrenti alla stessa ora. In altre parole, il misterioso risveglio cronometrico potrebbe essere la manifestazione di un blocco energetico in un organo specifico, indicando un disequilibrio che la medicina cinese cerca di comprendere e correggere. Esplorare questa connessione tra l'orologio biologico, lo yin-yang e la salute complessiva può rivelare profonde intuizioni sulla nostra esperienza del sonno e sulla necessità di armonizzare il flusso energetico per un riposo più equilibrato. Come detto prima, quando l'energia nel corpo subisce un blocco, vuol dire che subentrano dei problemi di salute. Di conseguenza, ci ritroviamo a svegliarci sempre alla stessa ora. Proprio quest'ultimo particolare è importante da tenere in considerazione in quanto ad una certa ora di risveglio dal sonno corrispondono determinati problemi di salute. Il risveglio nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 23 può essere associato a diversi fattori, principalmente legati al sistema endocrino e allo stress. Questo periodo della notte è correlato al funzionamento di specifiche ghiandole e orologi biologici del nostro corpo. Innanzitutto, riguardo al sistema endocrino, il risveglio in quest'intervallo potrebbe indicare potenziali disturbi alla tiroide o alle ghiandole surrenali. La tiroide, ad esempio, gioca un ruolo cruciale nella regolazione del metabolismo e un suo malfunzionamento potrebbe influire sulla qualità del sonno e sui pattern di risveglio notturno. Le ghiandole surrenali, coinvolte nella risposta allo stress, potrebbero essere stimolate in modo eccessivo durante la notte, causando risvegli frequenti. L'ipotesi di uno stress prolungato può essere confermata anche dal fatto che lo stress è menzionato come possibile causa del risveglio in questa fascia oraria. Per alleviare questi disturbi viene suggerito di ricorrere a pratiche di rilassamento come i massaggi e la meditazione. Questi approcci possono contribuire a ridurre lo stress e favorire un rilassamento generale migliorando così la qualità del sonno e mitigando i disturbi associati al risveglio notturno, un blocco di energia fra le 23 e l'una di notte. È la manifestazione di disturbi legati alla cistifellea e può essere influenzato da vari fattori emotivi e psicologici. La cistifellea è un organo coinvolto nella digestione. Il suo compito principale consiste nell'immagazzinare e concentrare la bile prodotta dal fegato e necessaria per la digestione e l'assorbimento dei grassi. Disturbi in questa area possono avere radici nelle emozioni e nella sfera psicologica. In questo contesto, delusioni emotive, amarezza, bassa autostima e rancore verso gli altri sono indicati come possibili cause di blocchi energetici a livello della cistifellea. Questi sentimenti negativi possono influire sulla salute dell'organo e portare a sintomi fisici come la formazione di calcoli biliari. Per alleviare questi disturbi, si consiglia di adottare un approccio olistico che includa cambiamenti sia a livello emotivo che fisico. Un'importante raccomandazione è seguire un'alimentazione sana ed equilibrata in modo da favorire il benessere del sistema digestivo e prevenire la formazione di calcoli biliari. Evitare l'autocritica e concedersi il relax. Sono indicati come fattori chiave per ridurre i sintomi legati a blocchi energetici nella zona della cistifellea. Passeggiate nella natura e la pratica di hobby possono contribuire a migliorare il benessere psicologico complessivo, aiutando a sciogliere le tensioni emotive e a favorire il rilassamento. Il risveglio fra l'uno e le tre è generalmente dovuto alla pulizia del corpo e se ti succede è possibile che hai un eccesso di tossine nel corpo. Per affrontare questo disturbo è consigliabile adottare alcune pratiche salutari. Innanzitutto, una corretta alimentazione svolge un ruolo chiave. Mangiare in modo sano e bilanciato può aiutare a fornire al corpo i nutrienti necessari per sostenere il processo di detossificazione. Inoltre, bere molta acqua è fondamentale per favorire l'idratazione e facilitare l'eliminazione delle tossine attraverso l'urina. Evitare di alterarsi e gestire le emozioni in modo positivo è un altro aspetto importante poiché le emozioni negative possono avere effetti negativi sul fegato, che è uno degli organi chiave nel processo di disintossicazione. La gestione dello stress attraverso pratiche come la meditazione o l'esercizio fisico può contribuire a mantenere un equilibrio emotivo. Se si sperimenta il risveglio in questa fascia oraria, è consigliabile adottare uno stile di vita salutare, con un'attenzione particolare all'alimentazione, all'idratazione e alla gestione delle emozioni. Il risveglio nella fascia oraria compresa tra le 3 e le 5 è associato, secondo la medicina cinese, a possibili disturbi legati ai polmoni. Questo approccio vede una correlazione tra determinati organi e specifiche fasce orarie notturne. I sintomi associati potrebbero includere tosse, starnuti e naso chiuso, che possono derivare da un'irregolare funzione respiratoria. La presenza di muco può rendere più difficile il lavoro del sistema immunitario, aumentando la probabilità di infezioni e fastidi respiratori. Inoltre, è interessante notare che, secondo questa prospettiva, sensazioni di dolore e tristezza potrebbero essere correlate all'interruzione di energia nei polmoni. Questa connessione riflette il concetto più ampio nella medicina tradizionale cinese di legami tra gli organi e le emozioni. Per affrontare disturbi ai polmoni e migliorare la qualità del sonno, in questa fascia oraria, potrebbero essere adottati diversi approcci. Mantenere un ambiente pulito e ben arieggiato può aiutare a migliorare la respirazione. Ridurre l'esposizione a allergeni e inquinanti ambientali può essere benefico. Inoltre, pratiche come la gestione dello stress, la respirazione profonda e l'esercizio fisico possono contribuire a mantenere la salute polmonare. La fascia oraria compresa tra le 5 e le 7 è associata, secondo alcuni approcci tradizionali, al funzionamento dell'intestino crasso. Questo organo svolge un ruolo chiave nell'eliminazione dei rifiuti dal corpo. Se si verificano disturbi a questo livello, i sintomi associati possono includere aumento di peso stitichezza e precoce invecchiamento. Il legame tra il risveglio in questa fascia oraria e i sintomi menzionati potrebbe essere interpretato come un segnale di possibili squilibri o disfunzioni dell'intestino crasso. L'aumento di peso può essere collegato a una minore efficienza nell'eliminazione dei rifiuti, mentre la stitichezza potrebbe indicare una lenta movimentazione delle feci attraverso l'intestino. Per favorire la salute dell'intestino crasso e alleviare questi sintomi, vengono suggeriti alcuni approcci salutari. Uno di essi è lo stretching, che può contribuire a stimolare il sistema digestivo e migliorare la motilità intestinale. Inoltre, bere acqua in abbondanza è consigliato per mantenere un adeguato livello di idratazione, il che è importante per facilitare la normale funzione intestinale. In presenza di sintomi persistenti o preoccupanti, è sempre consigliabile consultare un professionista della salute per una valutazione più approfondita e consigli personalizzati. Ecco a voi il segreto nascosto dietro i vostri risvegli secondo la medicina cinese. Speriamo che questo viaggio nel mondo del sonno e della medicina cinese vi abbia ispirato e portato nuova consapevolezza. Se avete apprezzato il video, non dimenticate di lasciare un like, condividere con chi ama esplorare nuovi orizzonti e iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi affascinanti capitoli di conoscenza. Grazie per esservi uniti a noi e ricordate, un sonno consapevole può rivelare segreti preziosi sulla vostra salute e benessere generale. Alla prossima avventura! Grazie di cuore da Ricarica Mentale Grazie a tutti!